Benvenuti nella mia prima apparizione su youtube italia E sul mondo finirà di sicuro Ma almeno questo video lo vedrete Siamo qui nella prima top mia Dei 5 videogiochi censurati o scandalosi Iniziamo subito Come primo gioco abbiamo Postal 2 Un gioco tuttora disponibile su computer Che è stato scandalizzato molto per il modo in cui si uccideva la gente Non so ad esempio si poteva decapitare Potevi pisciargli addosso Cos'è così O tipo con gli animali Prendevi il martello Glielo lanciavi Gli volava in culo e si paralizzavano E questo gioco è tuttora disponibile su steam E l'ho già detto Perché lo ripeto Ok dopo abbiamo Call of Duty Modern Warfare 2 Siccome molti di voi l'hanno giocato io no Mio mi consiglio invece In cui c'è una missione In cui bisogna fare una strage di innocenti Infatti questa parte è stata poi tolta con un aggiornamento Infatti in molti giochi di oggi come Far Cry Se ammazzi troppe persone innocenti Muori Fatto Poi abbiamo Wolfstein 3D Per Nintendo Che poi alla fine è stato anche tolto A causa dei suoi riferimenti a Germania nazista È stato anche molto criticato Anche se tuttora c'è su Playstation e Xbox computer Come Wolfstein Old Blood E come quarto gioco abbiamo Medal for Honor Un gioco di guerra della EA che in sé per sé non ha nulla di male Ma nel multiplayer Prima si poteva essere un soldato talebano Infatti molte famiglie Che avevano figli in guerra proprio con i talebani Mandarono delle critiche alle EA Che alla fine cambiò con le forze d'opposizione Poi come ultimo gioco abbiamo Fallout 3 Non ve lo immaginavate Fallout 3 Mosche di merda vola via In cui è stato soprattutto Censurato in molti paesi Soprattutto l'India Per oltre alle scelte di schiavitù E di decapitazione O cose così Soprattutto in Perché mostrava Una mucca a due teste E in India Nel male sacro la mucca Per me invece È un ottimo contorno Per una bella bistecca di mando Vi metterò un altro gioco Che si chiama Rape Lay Già il nome dice tutto Rape Rape In un gioco Giapponese Erotico Qui già scatterebbe il bollino Più 18 Più anche 30 E in cui bisogna In tutti i sensi Stuprare una donna E le sue figlie Che saranno 18 anni sicuro E Ragazzi Questo video è finito Ci vediamo al prossimo